ragazzi buonasera dal vostro lino juventus allora claudio lotito ha avuto 12 mesi di squalifica è stato squalificato 12 mesi per il fatto del caos tamponi che ci fu in questa stagione ma 12 mesi di squalifica voi sapete già che se qui in questa storia c'entrava la juve avrebbero dato punti di penalizzazione avrebbero chiesto retrocessione avrebbero chiesto radiazione invece se ne escono con una squalifica di 12 mesi per claudio lotito tutto questo quanto ti chiami lazio roma napoli verona l'importante non chiamarti juve sentenza come al solito vergognosa tu hai falsificato dei tamboni giocando delle partite con dei giocatori che forse erano positivi e tu cosa sei fatto te ne sei uscito con 12 mesi di squalifica nessun punto di penalizzazione bravi questa è la giustizia italiana questa è la giustizia sportiva italiana quando non ti chiami juventus poi purtroppo se ti chiami juventus per niente per niente che stanno ancora rompendo i coglioni con sta storia di suarez avete visto il video di suarez che ha fatto l'esame dove sta lo scandalo dove sta lo scandalo nel video che abbiamo fatto oggi hanno fatto vedere i media di suarez che fa l'esame che se la cavicchia pure a parlare un po italiano dove sta lo scandalo c'è poi nonostante il caso è stato archiviato la juventus non c'entra niente si continua a parlare della storia di suarez solo perché suarez era trattato dalla juve e ce ne usciamo con le sentenze sull'audito 12 mesi di squalifica che ha falsificato dei tamboni di schiato di contagiare tutti i calciatori e poi dei calciatori si passano ai familiari cioè questi hanno combinato potevano combinare una strage se ne escono con 12 mesi di squalifica ma io posso ancora avere fiducia nella giustizia italiana giustizia sportiva italiana sappiamo che quando tu non ti chiami juventus tutto va a finire a terra luce e vino poi a noi con i calciopoli tre giorni di tempo processo ci hanno mandato in serie b questa è la differenza e questa è la giustizia sportiva italiana comunque complimenti all'audito anche quest'anno diciamo anche questa volta se l'è camata e poi come diciamo sempre il male del calcio i mafiosi che loro dicevano che erano oggi giraudo e betteca colpiscono ancora disse bene giraudo noi andiamo via ma i veri mafiosi arriveranno ed oggi si stanno verificando testuali parole è una vergogna questa sentenza data all'audito 12 mesi di squalifica questo rischiava di contagiare tutta la serie a immaginate se lo faceva la juve però basta che hanno rotti i coglioni a ronaldo che va a curmaier hanno rotti i coglioni a dibala e meccaniche fai il festino che tra l'altro io per primo criticato ma io tifoso ma tu stampa italiana devi stare zitto tu giustizia sportiva non devi nemmeno parlare non ti devi nemmeno pronunciare perché questa sentenza sull'audito è un'ennesima pagliacciata comunque ragazzi siamo abituati chi segue la juve da anni sa che è tutto normale sa che se tu ti chiami juventus vieni trattato in un modo se non ti chiami juventus vieni trattato in un altro ci siamo abituati io voglio spendere due parole un po sul mercato sento parlare di un demiral che potrebbe partire ragazzi già siamo partiti male perché se parliamo di una juve che deve ripartire dei giovani demiral delì chiesa meccani sono indoccabili poi se vogliamo fare che dobbiamo vendere demiral e dobbiamo tenere ancora ghiellino e bonucci con tutto il rispetto siamo già partiti male per la prossima stagione comunque mi auguro che venga presto ufficializzato allegri gli danno la squadra in mano perché lui se torna fidatevi non torna a fare il pupazzo stavolta detta legge tipo alla ferguson come faceva a manchester detta legge e quindi come sempre come sto dicendo un po da un po di tempo conto la fine della stagione faccio finta che il capodanno faccio il cantano perché basta domenica audine sarà nata sofferenza non ci voglio pensare non vedo l'ora che finisce quest'incubo di stagione ragazzi iscrizione al canale un abbraccio a tutti e ricordatevi sempre che chi ti fa juve non perde mai ciao